stata molto intensa e ha proposto comunque diverse occasioni. Eccoci qua Luca, allora qual è la tua opinione sulla gara? Ma entrambe le squadre si sono giocate la gara secondo le loro possibilità di questo momento, poi è chiaro il risultato lo determinano anche gli episodi, oggi è andata così. Non ci resta più molto tempo, un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. È stato un grande piacere. Grazie. Grazie. Grazie.